Il centro storico a partire da sabato 17 sino al 26 dicembre si trasformerà nella città del Natale regalando ai nissegni e non solo l'atmosfera tipica delle feste. Villaggio di Babbo Natale, Porta Magica, Via dell'Arte e Via dell'Ingegno, il presepe vivente, animazione di vario genere con elfi, angolo della solidarietà, concerti e tanto altro animeranno il cuore della città per dieci giorni. Ad aprire la manifestazione sarà sabato prossimo alle ore 17 l'inaugurazione dell'albero dei desideri realizzato con la collaborazione degli istituti comprensivi della città seguito dalla parata di Natale, la visita al laboratorio degli elfi e alla casa di Babbo Natale. A concludere la prima giornata l'esibizione di Luca Monastero, comico del laboratorio di Zelig. Un'idea, quella di Caltanissetta, città del Natale, promossa dalla quinta commissione consigliare cultura sposata dall'amministrazione comunale. È un'idea che è nata nella commissione che mi onoro di presiedere, che è composta dai consiglieri Bruzzaniti, del Popolo, Maira, Bellavia, Giugno e Romano. È un progetto al quale abbiamo lavorato da tempo, che abbiamo presentato all'amministrazione, che lo ha condiviso e ha demandato l'organizzazione alla Proloco. Crediamo sia un segnale, perché è un progetto che tenterà di essere inclusivo al massimo. Abbiamo coinvolto le scuole, la Croce Rossa, il mondo dell'associazionismo, tantissime realtà, gli scout. Diciamo che all'interno di questo progetto, che noi consideriamo una sorta di contenitore, ci sarà un po' tutta la città. Una commissione giovane, una commissione di persone che vogliono spendersi per la città, dove non si guardano colori, dove si vuole lavorare tutti insieme per fare qualcosa di costruttivo, che non riguarda soltanto, mi auguro, il Natale, sia una prospettiva nuova o una stagione nuova. A coordinare gli eventi che si susseguiranno sino al 26 dicembre, sarà la Proloco di Caltanissetta. I punti più importanti e più qualificanti sono la casa di Babbo Natale, che si terrà qui all'interno del palazzo comunale Giunellatrio. Poi avremo un punto food e un punto di assaggi culturali dei prodotti nisseni. Avremo un punto artigianato, chiamato dell'ingegno, dove ci saranno delle esposizioni di attività locali. Ma soprattutto ci sarà divertimento per i bambini, un trenino che porterà in giro questi bimbi, le letterine di Natale che potranno essere consegnate. Naturalmente ci saranno concerti in varie chiese, al Palazzo Moncada. Al Palazzo Moncada.